ok ci siamo è partita dovrebbe essere partita la live twitch non mi ha notificato niente ma dovrebbe perché controllo che altro questa è una prova sto vedendo un po' come gira come va ok dai non sono tanto lontano non so se fa si prendo il mio il mio amicissimo eccolo qua bello almeno taglio la strada direttamente così me la faccio tutta nuoto taglio un bel po che cazzo sparate figli di puttana cazzo forse nella cosa tossica vediamo se ho no ok ce l'ho già su un'escursioncina si fa sul serio c'ho già la tuta anti radiazione figli di puttana che che mi spara guardalo tanto ormai c'ho l'armone troppo potente inutile fottiti oh è di qua è sopra la casetta figata ecco cosa sono queste qua non mi ricordavo più le scatole oculate però è di la è di la vediamo se tipo vado sopra il tetto oh di qua ecco se faccio così poi oppe no vai giù vai giù vai giù vai giù ok la bisega ho trovato l'antenna deve essere puntata nella giusta direzione allora iniziamo con questo perfetto ok quando la scatola oculata trasmette non sai mai quello che ti becchi quando va bene ti becchi un colpo dritto al cuore merda son caduto allora manca l'ultima si dai vado a prendere anche l'ultima così magari mi da qualcosa vediamo dov'è qua sono troppo potente per voi non rompete i coglioni ok si può andare vado di qua tanto al limite c'è la mia balenocchera che mi porta non rilassarti troppo ehm di la ok andiamo ok c'è anche il faro qualcosa al faro andiamo anche al faro questo che prega guarda quella è la lumentorre nei tempi andati venivo usata per indicare la strada di notte e galleggia melma ma ora custodisce un segreto più pericoloso aspetta che vediamo se si sente bene prima che troppo alto troppo basso vediamo no forse si è forse alto la voce vediamo se faccio sparo così vediamo mentre sparo se ottimo dai ottimo si sente almeno quello ok c'è su ok abbasso giusto giusto di un pelino ho abbassato di un pelino poi regolerò più avanti faccio un po' di prove l'antenna deve essere puntata nella giusta direzione quando la scatola oculata trasmette non sai bella l'antenna mod migliorie ti becchi un colpo dritto al cuore perfetto è buio pesto là fuori e passi tutto bella bella trasmissione dei passi vuol dire incazzato e passi tutto ok vediamo sopra cosa c'è che mi dice di guardare magari una missione secondaria visto che ogni volta sblocco missioni secondarie così a caso oh nuova missione secondaria l'alluminatore gira il lumen faro in cima alla torre per rivelare un luogo segreto niente male ha illuminato una caverna nascosta chissà che segreti custodisce madonna sta voce quanto è figa aria completata che cazzo è successo ok di la no 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 che sta che sta affogando muoviti ok di la ma di là dove ah c'è un'entrata di libido se la trovo c tu 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 qua c'è una terraferma si ah le isole sono paradisiache eh concordo ok si da salire oh eccola quella è una stanza quiz chissà cosa dovrei fare per vincere il tesoro che contiene urca vediamo minchia tanto sono è troppo forte la mia arma ormai ti distruggo in un secondo uh vediamo cos'è oh è la prima volta per me vediamo devo attivare solo questi tre cosi se specie di pulsanti bottoni ah una spada bella prize spada murgel questa potenziata potrebbe essere esagerata vai raccogli vediamo un po' crea eccola qua vediamo aspetta è più potente io uso questa qua 1058 vediamo se la potenzio questa potrebbe essere bella mostruosa no niente di questi più potenti niente vediamo gli accessori aggiungiamo gli accessori allora 910 1384 mi sa che mi conviene 23 e 97 perfetto qua allora 932 45 1030 forse quella di 44 1030 si 45.000 la vita mettiamo la vitina che non si vede crea ok ok dai proviamo a vedere com'è bello ora si va questa non sarà un'escursioncina si fa sul serio porca puttana anche mamma che si è attaccato ah è qua è già qua che mi aspetta bene vediamo eh si vado direttamente qui non è inutile vado a piedi cioè vado con questo non faccio il viaggio rapido tanto è qua che bello così qua mi fa che una bella foto ci sta qui allora allora metto sfocato così no metto no tutto 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 oh con l'acqua così sembra che ci sono tre soli bella con la montagna di ghiaccio la misto ghiaccio non l'avevo mai visto ma che cazzo fai ok ok un motore maglietta si si ok ah c'è anche uno uno scheletterino qua bello ok ok il prossimo è sempre vicino quindi vado forse ce la faccio anche volando senza prendere ma che perfetto proprio quelle di certo una tana di bestiacce pericolose questo potrebbe essere l'inizio della fine di tutto eh ma vado dopo dalle bestiacce mi interessa prendere i rottami rottamerie ok madonna che bei colori che c'è so già dai eh stavolta prendo il melmo scafo giusto che qua non ci sono ehm non c'è la melma pesante quindi posso tranquillamente usare il melmo scafo ecco qua eccolo qua bello questo ok però adesso visto che ne ho tanti mi conviene andare quelli da trovare ok la sorte dei prigionieri no aspetto questo trovo la nuova tuta vai facciamo questo giù giù vai spostamento rapido considerato quanto è buio non dovrebbe mancare molto all'alba che stile la collezione bello l'ho completato perché nel negli episodi precedenti le avevo dato i vari tessuti ho detto si si te la faccio adesso e quindi ora che l'ha fatta adesso l'ho ritirata dice che devono essere pochi gli automi rimasti al mondo eh beh ormai è tutto distrutto vediamo aspetta che vediamola o vedo un cosino magari se no l'ho penso che l'abbia già oh merda si è comparso un mostro un mustro come viene chiamato qui tanto siete troppo deboli ormai di frigo in un secondo ma no non avevo fatto che mi servivano questi mi servono i punti PSI allora vediamo cosa posso fare motoscafi capitani bandi eh dai faccio una di questo una bella pulita andiamo a fare un po' di stragi visto che ormai ho tanto l'arma ultra potente qua ok spostamento rapido intanto devo guardare se posso addirittura potenziare di più visto che ormai uso solo la il fucile mi è più pratico ah intanto cambio uh mi da più più corazza 49 ce n'ho una questa mi da 73 che cazzo allora vediamo dov'è a distanza lo scintillazetor lo scintillazetor esamina vediamo se ah no ho fatto ho sbagliato devo far crea ok ho sbagliato io scintillazetor eccolo qua allora allora vediamo il calcio no niente impugnatura no ormai mi sa che ormai ho raggiunto l'apice del del must no però forse la miglia è la miglioria che ho preso prima ma vero va come migliorano 593 770 ah no ci sono quelli di più addirittura 93 94 71 si mi conviene questa allora questa no questa 90 ma meno si eh questa dov'è questa no allora l'antenna questa 94 ok la volata uh questo però ha meno colpo il danno dopo quindi potrebbe anche non fregarmene 588 aspetto no no tengo questa perchè questa ha meno danno si si tengo questa vediamo caricatore uh questo tiene meno colpi però dimensioni caricatore fa più danno vediamo questo eh però fa anche molto di più ninchia vediamo aspetta 607 607 si dai rinuncio un po' all'emissione del caricatore ma tanto io velocità di ricarica carico veloce quindi vai ok indietro indietro perfetto perfetto sono pronto a a far fuori il il guarda dei capitani banditi le montagne le montagne sono così bell'ovvie vinchè sta valigia è stupenda posso volare così madonna a cazzo mi sa che devo per forza devo per forza muoio vaffanculo che culo sto annegando con rompirli per rompirli manomale che ha tutte le pareti che puoi aggrapparti dappertutto è scalabile sto gioco sei nel territorio dei dapi dap dei veri attaccabrighe eh beh figlio di puttana tanto io sono potente ormai non non mi fate più nulla non ho neanche più paura di voi minchia li litrituro ormai figlio di puttana però aspetta che dai che esplodi bello kaboom ok aspetta va che mi metto un attimo di la faccio fuori i primi piccolini che rompono solo i coglioni ok uno è andato bello se io ormai i combattimenti li faccio proprio ad occhi chiusi con queste armi che io ormai ho trovato proprio il massimo infatti me li sono tenuti alla fine vediamo cosa trovi di interessante guardia tagliadito beh inizioni di adrenalina mai utilizzate quelle robe lì bello bello, pungolo ok libero questo però lo uccido perché mi serve l'esperienza cattiva si 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 tanto dici sempre le stesse cose vai certo non hai fatto del bene adesso shpam madonna che sberla perché mi serve l'aura cattiva perché ho preso troppe aure buone ho fatto troppo del bene e mi serve invece di essere un po' cattivo per sbloccarmi una mossa che mi serve che è bellissima c'è una abilità però ho preferito prima finire il gioco a buono perché magari cambiavano un po' anche come infamous insegna che cambia anche la visione dei tuoi diciamo amici a seconda di se diventi bravo o cattivo quindi per non rischiare l'ho fatto prima tutto a bravo perché devo perdere tempo con voi tanto siete inutili vediamo cosa posso fare allora trova e non si nasconde niente muri sfondati dai vado a sfondare un muro che è anche l'ultimo però è troppo lontano un viaggio rapido qui più vicino è questo spostamento rapido ok ok allora la foresta è magnifica eh lo so ma è tutto magnifico qua perché c'ho ancora con il segnetto là che non mi serve più vabbè lascialo là eh devo chiamare almeno la la cavalcatura vai una casa vediamo se l'ho già fatta sì figli di puttana ma io vi ignoro perché non mi servite cioè non ho tempo per voi ok allora questo perfetto e anche questi ce li siamo tolti dai coglioni vedo solo cosa c'è qua dentro ma non ci deve essere granché è un calcio di un fucile magari non credo sia più potente basta sì è un'area piccola questa vediamo porta la legna al villaggio perché a me manca ormai diciamo ce l'ho già finito in verità però sono tornato indietro prima di della fine del gioco perché non ho voglia di fare una nuova partita più per ora mi voglio prima finire tutte le missioni quindi adesso porto la legna sti qua almeno finito ok almeno costruisco il villaggio bruciato che sarà abbastanza bruciato ok aiuta a tagliare la legna vai tagliamo la legna questi sono tutti missioni questo gioco è eterno ci sono talmente tante cose da fare che veramente ti ci perdi ci sono cose non obbligatorie perché poi non te le se poi non le fai non te le conta però ti mette talmente tante cose da fare madonna veramente è potenzialmente infinito sto gioco poi vabbè ci sono le missioni un po' più principali invece te le segna come questo che dopo lo faccio prima vedo qua oh va che bella ristrutturato ok è il tizio della missione non è qua ok dice che è già brutto che l'albero della vita stia morendo e ora i loro campi sono infestati dagli insetti se il raccolto andrà perduto questa gente non avrà niente da mettere in pancia ha bisogno di aiuto per cacciare gli insetti prima che distruggano il raccolto da dove vengono gli insetti manzi cosa posso fare vai dice che c'è un grosso mantice che potresti usare per soffiarli via chiede se vedi quel grosso mantice laggiù se riuscissi a puntarlo nella direzione giusta per poi saltarci sopra bene dovrebbe bastare risolvere il problema dice che se li aiuterai avranno senz'altro una ricompensa per te ottimo vediamo un po' ah ok madonna meglio un sole opaco di una notte eterna forse devo no l'unico è da qui scusa devo spostarlo allora e si e ma io devo spostarlo come faccio o semplicemente basta soffiare per un po' di volte vediamo si bastava soffiare un po' di volte poi ci sono queste missioni che sono totalmente inutili però ci sta cioè ovviamente non devo non per forza essere tutte già tanto che ci sono quando che fastidio quando non puoi scendere da quel robo potrei ma è meglio che non lo dico dai vediamo cosa c'hai ma ormai non hanno più un cazzo questi faccio le missioni giusto per farle ma ormai non hanno granché ormai sono tutti deboli va dieci cinque no ormai non hanno niente torna torna la nemo della tibrua già è vero perché l'ho riparato tutto l'ho riparato non ha dubbi che meriti la fiducia e il supporto di questo villaggio le azioni valgono più delle parole hai fatto un buon lavoro ha sempre piacere di ascoltarti hai fatto un buon lavoro qui non si stupirebbe se vi incontraste di nuovo basta che non tieni più il villaggio che non lo fai ancora andare a fuoco non torno più uh livello 41 vediamo qualcosa di semplice prima di spegnere dai vediamo depositi dai vediamo questi qua che ne ho fatti solo due non me li ricordo neanche vediamo sta iniziando a piovere ma che palle aspetta che lo tolgo sto cazzo di beh lo metto qua almeno dopo si toglie da solo no tolgo così basta non ho più voglia di avere il con il pirulino la rompere il cazzo ah il deposito è vero con l'antenna mi sa che ci voglie non so se ci vogliono le chiavi no no forse non erano questi eh sì quindi c'è un mostro qua vicino c'è un mostro qua in zona che davvero mi dà la chiave vediamo aspetta un attimo vediamo deve esserci un mostro qua vicino eccolo ah dormendo sto dormendo peccato che non ho con la bomba l'avrei ucciso qua cosa c'ho eh c'ho il pugno così ma non gli ha fatto un cazzo un chiave ah che arma potente che ho ormai cioè ormai trituro tutti trituro tutti ormai eccola la chiave chiave mostruosa è difficile vedere lontano nell'oscurità ma se c'è una luna che fa paura si vede benissimo infila e gira ecco ormai nella mia situazione è difficile trovare cose oh che bello il manico di osso però ormai è difficile trovare cose potenti per me ho portato vestiti ormai vestiti da un secolo che non li trovo più sono andato troppo avanti ormai si può dire che l'ho finito quindi tanto dopo almeno quando ribatterò il boss finale alla fine di tutto con tutte queste potenzialità che trovo dai faccio un altro un'altra cosa e poi spengo di qua questi giocano ancora a carte ah no bevono quello gioca a carte da solo quello beve va sulla via dell'alcol quello uh il freddo allora aspetta che mi devo mettere quello che mi ripara dal dal freddo dov'è 100% eccolo qua così non mi gelo i coglioni ah c'è c'è ancora il pugno qua ma fa schifo nel combattimento sta roba bom vuol dire che è questo no magari può avere può essere che ce l'ho già eh la chiave perché magari a volte le prendo ma poi non andavo perché non avevo ancora non avevo ancora la mappa dei depositi quindi magari a volte prendevo la chiave e me ne andavo no non ce l'ho quindi è qua da qualche parte è come se qualcosa stesse per accadere oggi questi sono un po' più duri ma come sono grossi ah perché questi sono elettrici e quindi non si fanno niente dai elettrizzo ti serve più energia chi per farlo ok ok troviamo un mostro vediamo dov'è che pare questi piccolini dov'è essere qui da qualche parte per forza anche se mi sto perdendo ok la cosa è lì lo uccido che se no mi rompi i coglioni no in quest'area sono molto più forti i nemici bellissima sta cosa che di qua c'è come in minecraft no una foto così la devo fare con il ghiaccio senza però nuvola ok ghiaccio di qua e di qua che figata vediamo se qua l'ho già fatto sì questo l'ho già fatto allora vado un attimo con anzi con la mia bella mano così cerco bene il mostro da qualche parte è per forza non so adesso il raggio il raggio di dove se può essere tanto lungo non gli fa un cazzo è meglio fare oh qua c'è qualcosa magari qua dentro bella la grotta di ghiaccio magari qua dentro uh uh eccolo è lui sì vediamo se posso andare da vicino senza svegliarlo no figlio di puttana cos'è una specie di trick che ecco che ecco che ecco ma tanto ormai vi secco in due secondi chiave mostruosa ok si può andare cioè ormai con quest'arma qua è proprio rotta ci si sciolgono proprio i boss si sciolgono infila e gira infila e gira bello ah fucile a pompa il modo per il fucile ma il fucile a pompa fa cagare in sto gioco cioè almeno io non mi sono mai trovato quanta roba che c'è inutile perché non mi servirà niente dai con questa con questa foto così al paesaggio salvo salva partita sovrascriverlo certo ok salvataggio completato bene dai chiudo qui la live vediamo un po' come è venuta non lo so è una prova che faccio così se poi vengono bene tutto le continuerò a fare magari non credo tutte le mattine però in orario mattina pomeriggio sera comunque gli orari poi saranno sempre quelli dipende da da molte cose quindi niente alla prossima non lo so Grazie a tutti.